Ciao stecchini belli, come va? Benvenuti in un nuovo video, apriamo cose a caso, misteri cose. Allora, se beh vi ricordate su, sempre che ve l'abbia fatto vedere la solita stede passato, presente e futuro, avevo preso questo uovo di Natale su Gena, questa palla che doveva essere tipo Sanrio, Suttimo, e questo invece l'ho comprato oggi al carburo. Allora, in realtà era roba natalizia, cioè questa era natalizia e quest'altro no, e questo l'ho comprato oggi però appunto quando ho comprato questo poi non avevo nient'altro con cui fare un video e questo e poi ho detto, vabbè oggi compriamo, ci ho già cominciato poca roba, mangiamoci un Kinder. E quindi vediamo di tirare fuori un video. Allora qui c'è scritto Christmas Building Block Amy. No, ne sono affatto sicura. Building Bleach Egg. No, Bleach. Sì, Bleach è la catticcina. Block Egg. Ah, Building Bleach Egg. Ce la posso fare. Ovvero c'è un palazzo da costruire. Chi lo sa, peccato che sia abbastanza trasparente, quindi non, sto cercando di non guardare troppo. E allora qua ci sono i soliti warnings. Qua c'è qualche idea di quello che potremmo trovare. E andiamo ad aprirlo sperando sia agibile la cosa, se no io avevo le forbici. sì. E quindi andiamo di forbici. Allora vediamo, vediamo un po'. Allora questo costava un euro, un euro ottanta, una roba così. Ora se mi faccio fuori una mano, vediamo se ne vale la pena. Vabbè. Mettere una linguetta con scritto tirare qui pareva brutto. Ho deciso che mi devo rovinare la mia manicure che mi sono fatta oggi. Vabbè, tanto bisogna far passare il tempo. Il rumorino è triggeroso. Io sto rigando la plastic come se non ci fosse un domani. sta roba non scorre in quanto è forma di uovo. E tagliati però. Che pazienza. Ecco qua. Dovremmo esserci. suspense. Allora, vabbè. Praticamente come se ne è prima. E abbiamo delle costruzioni in cui cerchiamo di intuire cose, ovvero ci sono dei bastoni, delle cose gioie, delle cose rosse, nere e verdi. Ecco qua. Non c'è nulla di caratteristico. Vediamo se non so più che un lampione. a me non viene in mente nulla. A me non viene in mente nulla. Ci sono questi tre coni. Però in effetti ci sono tre. C'è una sedia gialla. Ci sono tre cose che possono essere bastoni piantati nei coni. delle cose rosse, delle bandierine. È una cosa azzurra. Ma non so. Prima di guardare. poi se c'è tempo lo monto. Quello che è proprio di libretto. Compro un microfono, c'è un foglietto. Compro sta roba. qua c'è un poster. Ah, è un'altalina. Aspetta, che? Aspetta. Qua c'è tutto quello che potrei trovare, visto che io, Babbo Natale, su sto carro armato non l'ho trovato. È un'altalina con delle cose verdi. C'è anche così verdi. C'è l'altalina, veramente. Vabbè, se il video, non so se morite dalla voglia di vedere sto aggeggio montato. Vediamo un po' quanto ci metto a fare il video. Passiamo a questo. che probabilmente è un'apertura facilitata. Questo l'ho regalato anche a Violetta, ma non mi ha detto cosa ha trovato, perché l'altra volta. Quello della Sario, ma anche questo dovrebbe essere Sario, mi ha detto cos'era. Però io l'ho visto tutto. Vabbè. Ok. Ah, aspetta, mi sta schiacciando. Come si ha questa cosa? si schiaccia e poi... Ancora le mani così. Allora, cerchiamo di capire. È un ga, è un coso. È l'okitti vestita da... da cucconi da cane. Non so, ha sti orecchie. Però ha delle cor... No, non lo so. Perché... ma in realtà è l'okitti... Ah no, è Melody. Immagino, perché queste sono le orecchie di Melody. Che Melody è una coniglia. E per quello ha le orecchie da gatto, che sono diverse da... quasi, vedete, che ha il bordino su. Quindi è Melody vestita da gatto. Vediamo un po'. Se ho capito che cosa potevamo trovare. Questo non c'errebbe un prezzo, ma mi sembra che fosse stato... ecco qua. Ecco qua. La carrellata. E vediamo un po'. È scritto tutto in giapponese, quindi... ne so quanto prima. Ah, ok. C'era l'okitti vestita da gatto azzurro. Quell'altro animale che non so cosa fosse. credo sia Melody, perché comunque... c'è scritto questo. Ora, se mi potete aiutare voi. Comunque è caruggia. Io l'altra volta, appunto, ho trovato... un animale che non conoscevo. Vabbè, Melody la conosco. e quindi, bellina, questa non so... mi sembra... ah, tra l'altro c'è un cubetto. Questo è un cubetto trasparente. E cosa ci dovrei fare? È inquietante. Lo metto nell'alta lina di quell'altro gioco. ecco un cubetto... Questa, adesso, la acqua. Ora, se è anche un cubetto. Si c'è un cubetto. Si c'è un cubetto. ma cioè erano due buste qui c'era solo un cupetto e qua non c'era ma si riesce ad aprire ok e con questo cupetto io cosa ci devo fare? allora questo è plastica ecco il cupetto io non lo so cosa ci devo fare ne so quanto prima comunque vedete che è sanario e non so che cavolo ci dovrei fare non ho capito senta Violetta se l'ha trovata anche lei e se ha trovato una funzione secondo me magari è per tipo lasciare separata la plastica ma nel mentre mi è anche caduto non so che ne abbiamo fatto andiamo avanti nel mentre è arrivata Lumi e vedremo se ci darà un valido aiuto allora Kinder sorpresa a tema natalizio ho scelto questo con la renna perché era molto caruccio anche se in realtà c'era poi dopo anche l'ho visto lo scogliattolo ed è caruccio anche lo scogliattolo però prendiamo la renna uno prendiamo e non ho seguito molto dovrebbe esserci sì ma in genere anche carino si può prendere ma anche gli altri natalizi non me ne ero mai accorta vabbè e l'anno scorso non mi ricordo mi sembra che però forse prendevo non prendevo e l'ho prendevo l'ho detto non so ho preso due volte dei robin natalizi ecco la sorpresa natalizia ma non mi ricordo se cos'erano perché tipo i cuori quelli grossi sono piatti probabilmente era un coso più grosso col riconfiamento c'era la sorpresa non lo so vabbè comunque Lumi ha dato il suo parere allora vediamo sempre così senza distruggere tutto vabbè ecco me l'ho detto allora allora tra l'altro è perché è mezzo sciolto non lo faccio tutto sto caldo et voilà apriamo Lumi lascia stare il cioccolato questo me lo mangio sembra bello Zeppo ma può anche essere che ci siano quei papiri di istruzione e di warnings così per non saperne leggere e scrivere mi sembra un papo natale è un po' di zenzero caruccio caruccio vediamo cosa fa ecco Lumi mi perde già i pezzi allora trattasi di tre pezzi e ora vediamo un po' c'è questo c'è questo query code e questo robo così e praticamente puoi disegnare la campagna e qua ci sono tutti loro allora vediamo un po' questo è fatto così magari se mettere gli occhiali potrei capirci ma vuoi mettere la sorpresa ecco qua e questo come ci si infila questa campana dovrebbe essere subito eccolo qua così si dovrebbe entrare qua però ecco qua allora un carro lo pan di zenzero che corre peato sulla sua campana volante e l'umi non so dove mi abbia messo l'altra parte di uovo eccolo qua ovviamente non l'ha mangiata perché mi ricordo che il cioccolato è velenoso per i gatti ma tanto a lei non piange però non volevo che me l'avessi spattaciato per te eccolo qua allora non mi ricordo l'altro pezzo di video perché mi sono dovuta interrompere quanto era lungo ma direi che montare questa altalena anche no per quanto sono fiduciosa che sia una cosa meravigliosa ma adesso che poi è arrivata l'umi già me la vedo che si mangia ste cose anche no e quindi è tutto molto bello e mi mangio l'ultimo pezzo di uovo sorprese carine in realtà visto coso secondo me è una no più carrucce roba che ha prenduto via l'albero questo bo già dove lo mette su preseppe hanno ste cose che così perché mi ricordo che l'altra giornata prima delle feste in ufficio c'era il mio capo con suo figlio e aveva trovato appunto uno di ste robe era un elfo che aveva una tipo una campana come vedi stallo e che aveva le robe in rilievo hanno messo il trick che se passi la matita sul foglio con sotto quello vedevi i disegni di sto fluocco che però lo continuava a perdere sempre se smontava e quindi si hanno ste robe che qui in teoria disegni la campana però vabbè comunque è carino nel caso uno lo appoggia sull'albero se uno non ha un gatto è caruncio secondo me era più carino se si poteva vendere l'albero però magari anche lì chi ha il camino o chi ha come decorazione insomma è bellino il cioccolato kinder è buono e basta quindi questo è super super cute e bene rimarrò se poi scopro questo coso o se lo sapete voi fatemi sapere che intanto l'ho perso spero che non devo levarlo prima che lui se lo mani questo cubetto lì trasparente che non so cosa serva perché qua non si incastra in nulla e come per di stanno no perché starebbe sbilanciato la testa gigante e quindi forse se ci infilzo una zampa e lo incollo da qualche parte serve così ma per collezionarli ignoro se lo sapete voi fatemelo sapere anche a me non tenetevi questi segreti sono per voi e basta posso augurarvi la buona buon appetito se vi è fatto venire voglia di kinter e cioccolato anche se secondo me in questo periodo di feste anche no ma si sa mai buona buonanotte 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 Grazie a tutti